salve a tutti ragazzi oggi c'ho due cose a dirvi uno forse farò alcuni video con la mia webcam una webcam che quasi sta a carica non so quanto tempo ci vorrà mi farò le foto e metterò qui su devinart è un'altra cosa ragazzi allora quando avevo acceso il computer e sono andata su devinart ma avevano levata ma per fortuna che mi ricordavo la password per fortuna non sono ricordata mi sono ricordata la password ragazzi che miracolo e la password non ve la posso dire ho già fatto tutto io favoriti forse ragazzi farò un nuovo personaggio le amore perché lei mi è l'unico allora si farei mettere ai fang forse mettere ai fang il clone di lei mi fang però non so se metterlo che vi dico ah vabbè sto computer che mi fa sempre così i video non so quando li farò ragazzi video con movie market non so non so proprio perché per tutte le volte che mi se blocca dovrei scaricare una nuova un nuovo programma per fare i video almeno un mese blocca più sto sto maledetto computer e forse ragazzi vedrete anche will in persona e vedrete anche witchy e mo witchy sta in cucina e vabbè ragazzi ci vediamo un doppiaggio shad quello dei my little pony shad faccio finta che happy the friends che che sam e twisty che mi trattavano male un episodio spezzato grazie a tutti